Agostino di Pona Aurelio Agostino di Pona, 354-430 d.C., filosofo, vescovo e teologo romano di origine nordafricana e lingua latina, padre, dottore e santo della Chiesa Cattolica, detto anche Dr. Grazie, in la vera religione, dice Se l'uomo ama l'altro uomo, non come se stesso, ma come ama un giumento, i bagni, un bell'uccellino canoro, cioè lo ama per prendere da lui qualche temporanea soddisfazione o utilità, allora necessariamente è soggetto all'altro uomo. Ma, quel che è più turpe, diviene servo di quel brutto e detestabile vizio per cui non ama l'uomo come deve essere amato l'uomo. Chi si lascia dominare da questo, resterà schiavo per tutta la vita, che invece di vita può dirsi morte. Commento Nessun passaggio evolutivo è turpe, per la legge di reincarnazione prima e di evoluzione poi. Ogni esperienza non è turpe per chi ne ha bisogno, ma per chi l'ha già fatta. Grazie. 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 Grazie.